Benvenuti a tutti sul canale Madame Nia oggi mi è arrivato questo pacco direttamente dalla Germania e ci ha impiegato solamente tre giorni sulla mia pagina Facebook Madame Nia vi ho posto un sito e vi ho chiesto cosa secondo voi poteva esserci all'interno andiamo a vedere insieme cosa c'è vediamo chi di voi ha indovinato allora si tratta di detersivi per lavatrice o anche per lavare a mano tutti i tipi di capi e di conseguenza tutti i tipi di tessuti ad esempio questo è speciale per microfibre questo è speciale per pura seta abbiamo quest'altro per lino e coltone questo qui per lana e cashmere ora questi sono arrivati quindi doppi sono due flacconi per ogni tipo di tessuto potete fare 24 lavaggi a mano oppure 12 in lavatrice sono davvero tanti ringrazio l'azienda che si chiama Interval che ripeto è un'azienda tedesca non vedo l'ora di utilizzarli e farvi sapere anche come mi sono trovata nell'info box vi lascio il link dell'azienda e vi ricordo che sulla mia pagina facebook a raggiungimento di poco più di 600 followers partirà un nuovo giveaway quindi a presto vi aspetto numerosissimi un bacione